bella a tutti su quale precede video di questo nuovo video, oggi sono le serie spacciati di Tana Sharks, oggi siamo su League of Legends, tuttora su Shen, grazie, su Shen, stiamo la gravesta perchè non sto usando il Lord Recorder perchè non registra più da problemi gravi, quindi sto recando così a KD, speriamo non allarghi, scena è diventato comunque il mio nuovo main, nuovo main, quindi GG, contro un male di Timo, vabbè, ti lasciamo insomma a spiegare le abita, la passiva in pratica, ogni tot, ogni tot, ogni tot, ogni tot, 9 secondi fa un attacco base, che toglie in base alla vita massima di Shen, alla vita bonus di Shen, quando Shen, attacco minion, fa un campione, se basi il cooldown di un secondo della passiva, la qui in 20 invece lancia una spada, che fa 3 magici, e se colpisci il versale con la spada, ti curi, tu e tutti i tuoi aliati in pratica, quindi è OP, poi la W non fa perché mettete uno scudo, la invece è un dash che ti permette di tentare, cioè di provocare, cioè gli avversari colpiti dal dash, attaccheranno per forza te, e la ult invece si teletrasporta su un compagno in qualsiasi, da qualsiasi distanza, e intanto che si teletrasporta, gli da uno scudo enorme, siccome è un champ jones range, quindi è un più di merda, cercare di far male di Q, così, pum, tam, ok quello non fa male di Q, però è la città posta, eeeh eeeh in questo momento lui non ha ignite giusto no quindi ecco va bene se il nemico pensiamo che è xinzhao hai top xinzhao contro e ignite non ingaggiando per nessuna ragione si fa il curastrisce per la prima kill se la vede solo ignite fatta aiutare dal jungle questo perchè perchè quando tagli di del jungle il quasi tutti i player faura io sono lì è attaccato perchè gli piace no e qui facendomi spiecare lì ignite la via libera per per attaccarlo se ne sembra che non è un gioco che non ha danno ma meglio fa un botto di danno poco ma poco bobo 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 ma qui la città c'è un po' per l'arte vittorio questa l'estrata un po' ahahah dimmi acceca sufficiente io farmo farmo carmo shen ha un abullo un po' intanto non ha un abullo specifica si fa il tank però se volete cambiare qualcosa non c'è un abullo quindi non bella di tirò che comunque c'è marmore ma di crescita per fare un botto di danno non c'è un abullo specifica dipende da chi avete contro chi avete contro in questo caso hanno più appicchiati quindi mi farò 3 oggetti da P no 4 da P e giù da D stavo scherzando 3 da da P una Warbong e 2 di AP che è di AD 3 AP 2 AD e una Warbong non sto affermando perchè mi sto consentendo a parlare poi se volete sostituire qualcosa cioè vi consiglio di prendere non sempre però se vedete che il team sta vincendo se avete sicuri che l'avete vinta la parte è no prendetevi il portale dello deseroth questo qui che crea i minion brutti questo qua perchè vi permette di pushare perchè appunto Shen c'è una push poi anche se uno non so perchè però in genere non ha push ehm ehm quindi il portale dello zeroth e sapete fare un po' più di danno uno scelto o vi prendete una terinity o niente o terinity o terinity ehm poi che lo dire ma aspettiamo ok quando avete l'ulti app titolo sempre ulti app perchè così i tuoi compagni sono un po' più sicuri e attaccano e pensano anche che anche senza il tuo aiuto li uccidono quindi voi ditelo sempre le rune prendetevi vita scaling di dhp vabbè armor e magic resist quando vedete che i tuoi compagni stanno freddo cercate di di oddio che cazzo cercate di guardare al meglio possibile il fight così se qualcosa andate ad aiutare sempre col teleport se vedo una scena con ignite lo insulto pesantemente perchè non di avere il ignite come questa situazione dare forza no mi serve che non servo no non servo perfetto qui ci vedete ci vedete ci vedete vedere il fight il più possibile così nel senso che sono effetti oh oddio non ho visto ecco visto la potevo salvare ma stavo parlando stavo 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 non è una bella cosa non è una bella cosa lo rompi timo cercate di guardare sempre perchè il jungle verrà sicuramente sentito a far rompere te lo dico ehm quindi ehm che altro dirvi ehm vado parlo anche se ultime non si sta usando molto nè 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 e campionati torni non so perché io dove poi c'è inutile è molto è molto pro pro che no però il tuo che è abbastanza competitivo come c'è lì credito guardare il giacolino perché anche con un tempo ma c'è 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 noi voi non avete più niente no tranquilli cercare di portare sempre con la passione si va pronto ovviamente perchè ehm cioè meglio almeno avete più vantaggio io ho andato del mio c'è ehm se avete uno di tre contro cercare di schiarvi la di di usare per farmare nel caso di di poi lasciate gli insulti non li guardate sono brutti cattive non si insulta dai eh timo guarda qui eh dov'è quel timo qui c'è la funghetta aspetta amola prenderla dai 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 b così non 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 usso perché cercare di non usciare la torre almeno una prima se se usate poi siete costretti a qua quindi avete facili non non mi conviene c'è di far di armare prima di spaccare la torre cosa sta facendo oh drago cosa drago trum dove andare il mio drago il drago lo facciamo c'è drago si 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 all'area se sce lo ci sono tuorossi via 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 dire il mio conto con un duo non fece che togliamo lol non ahahahahah questo è il trucchetto se venite gancati a bugia si si vede gancati estate dalla parte rossa estate in top andate ma dai gli spiace da parte di fare non c'è asso quando vinse un altro trucchetto usatela e aspettate un secondo se usate la e mentre la state facendo diciamo usate il flash ti vedete tutti il raggio della è il flash in tante di notte da oggi fino a domani in pratica cioè quindi o più 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 mo ok se li carica il flash ve la faccio vedere non è un po' questa aperta un po' easy easy peasy le musquey proprio lì che stanno combinando ho l'ultimo minuto quindi ultimo anni quindi aspettiamo un po' che facciamo le sue cose l'ultimo qualsiasi sono fatti il petto foto il mo cercate le sede già nel top non si prendete il fila per lui tanto lascono gli assist non c'è da effettivo porta quindi non non ci sa tra l'esatto città caccia ma non seguito per nessuna ragione 4 su come dice funghi, funghi, funghi ben sculti 1,2 1,2 1,2 come vedete giardino a più non niente eppure one shot perché perché appunto la passiva c'è il danno di la passiva appunto scalando con il tuo bonus vita da molto da molti danni molti danni quindi continuiamo a formare la trattata non so farmi niente aia vabbè 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 se facciamoci no no il grosso il grosso è certo che di prendere quella fu perché infatti non anche la capito m cosa fanno che dolore ah timo un ghetto non l'ho visto tranquillo shen si può stare in top in support però in support eh vabbè il support perché perché conta e tank e nel caso si usa la per dar vita per dar sì vita la di che di che parma togliare e quindi e easy pisi ho sbagliato a prenderla perchè non so perchè prendiamo top prendiamo il mio ciponchetto no quindi vedremo a un po' pensato però io lo prefisco 100 mila voti top perchè il supporto non si prima non farma già shen avrà solo assist gli oggetti dal tank costano un botto quindi comunque ci sono dei soldi quindi ho assisto a niente che non bastano gli assist deve essere quindi è un po' sprecato il shen bot preferisco un centoppo così affanché a meno di l'oggetto da support quindi quindi me però si usa guardate mo il flash col dash un secondo se adesso aspetta un secondo mo che lo ripeto timo ritrovo si vicino ho felato si comunque così no se lo fate ehm trontate tutta quell'area lì quindi hopi si non ti va tranquillo non ti va ma perchè io non lo spingo no è morta quella bota eh questo si chiama overextended credere che uno è quindi vai continuiamo eh boom che va schifo di fa ecco ma iniziano i flammoni le nostre volontà qui oh mattino oh oh silent blind state lontano ma che culo state lontano dei funghi anche se non fanno danno questo a me oddio devo farlo ah perchè sei andato un deficiente noo perchè perchè non ce l'hai preso veramente che cazzo perchè dobbiamo prenderla io però volevo lasciarla chiudate io non ce l'hai preso oh sta tutta per me ok cominciamo a far male così nanana boom torre dove va dove va quella altra cominciamo a dove vai cominciamo a ahia ahahahah invisibile è questo che ci c'è oh bello bello vai cazzo vai cazzo noh oh gogo 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 ma sei idiota certo brava asce però magari vieni si vieni ma ahahah no no ma è proprio dentro una parte e va bene qua non ti ho visto è tranquillo sei che è segnata da dietro eh per forza eh lo so è però che ci dobbiamo fare dici drake top vabbè si drake pot ma perchè usate la cup per curare i compagni e quello che vi dicevo la cup mamma mia che è più forte non so qual è una a casa ah ok ma mi fate e l'altro ecco ahia ah ma volevamo fare tutti gli invisibili ci mi era accorto però comunque è una ruta l'ha preso l'ha preso non ci credo l'ha preso ah è andato a finire con pitch ah finire con ah allora che sei morto cosa serve ecco il stato ucciso prendiamo credo di aver detto tutto suppongo quindi ricordatevi flash e teleport sempre se vi vedete il ignite vi dovete vergognare perchè non si prende perchè non dovete filare lascia lecce e rilasciate le siete il collage poi la b dipende da chi avete contro prendete di vita e armore magica esist secondo giorno prendete una delle due culo team invisibile c'è anche non vuole morire no sono da p oh ma ho sottato qui ho povera extension non godatemi prendetevi anche la tour mail perchè va in combo prendetevi la d per forza tour mail e questo così vanno in combo perchè tu tanti ti attaccano che base stupisco danno della tornei e del m di dell'azzo san fai c'è quindi io p si e poi della sanfai che fa una bella combo più 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 in più in base poi prendetevi da magic crisis o corazza questo io mi prenderò questo questi questo questo le scarpette magic crisis e la periniti nel caso forresti far danno danno sì lo fate già però con altri io ho pensato l'utilità nel caso frappertutto tanti tank avete troppo scena che vuole fare sto scena scusami eh un secondo guarda si aia che sciacquo sei veramente fortissimo nooo ma sei niente da qua vai vai cazzo vai killa la devo andare a finire no no mostro vieni qui che cazzo è successo voi non avete visto niente il fail di e non l'avete visto mi raccomando ma perché vuoi una capa di cavolo sti qui ma che partita scocciante veramente sono po' ciucci ma po' scarsi sti qui ma veramente non ce la killi aaa aaa un po' acapa di l'ho tentata aaa aaa eeeh mwplb è morto lo dice a vabbè ragazzi credo che il video potrà anche chiuderelo qui perché diciamo è un po' inutile diciamo come dice ormai è finita la partita quindi ci sentiamo in un prossimo video ciao ciao